La raccolta differenziata a Castellabate raggiunge quota 80%, un risultato straordinario frutto di un'intensa strategia tra ente comune, cittadini e azienda deputata alla raccolta. Ieri in conferenza stampa i risultati del traguardo raggiunto. Oggi siamo all'80% e siamo all'80% grazie all'impegno di tanti cittadini, di tanti operatori commerciali, di imprenditori, di gente comune che ha capito che era un obiettivo della comunità, era un obiettivo di Castellabate che noi dovevamo raggiungere. E quindi c'è stata una sensibilizzazione, noi abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione a partire dalle scuole, a partire dai più piccoli, cercando con varie manifestazioni, varie campagne informative di coinvolgere tutti e devo dire che il risultato che oggi verifichiamo, che oggi attestiamo è un risultato che ci fa veramente essere molto molto orgogliosi. Poi oltretutto la raccolta differenziata è un tassello di quella che è la qualità della vita, perché è una parte della qualità della vita, ma questo passa attraverso i servizi che si riescono ad ottenere, a erogare ai cittadini, si passa dal verde, dallo spazzamento, dalla qualità delle acque, da quello che è l'aspetto che io sottolineo e mi piace sottolineare quello dei livelli occupazionali. Noi abbiamo fatto questa fase di transizione conservando, perdendo nemmeno un posto di lavoro, in un momento difficile come questo, di tutto il comparto del ciclo dei rifiuti, è un valore, è un elemento importante la difficoltà nella quale versano tantissime maestranze. Noi qui a Castellabate abbiamo 42 dipendenti che siamo riusciti a tutelare, quindi non perdendo nemmeno un posto di lavoro, ai quali aggiungiamo quelli che operano attraverso il verde, lo spazzamento, quindi con la società, con la Castellabate servizi e quindi diciamo eccellenze, punte di risultati importanti guardando all'ambiente, guardando i risultati ma guardando anche all'aspetto occupazionale. Adesso inizia il lavoro veramente più impegnativo che è quello di consolidare questo risultato che abbiamo appunto ottenuto. Ci tengo a precisare, questo è il risultato, l'ha fatto prima il dottore Marino che è rappresentante della SARIM e il risultato dei nostri formulari che portiamo, la materia raccolta viene portata presso le discariche, quindi presso i siti di trasferenza, ma ovviamente di qui a breve usciranno quelli che sono i dati certificati della Regione Campania e quindi questo risultato può subire una piccola, come dire, qualche piccola diminuzione a livello percentuale perché la Regione Campania ha una propria formula che va a calcolare in maniera corretta quella che è la raccolta differenziata, però comunque noi siamo soddisfatti perché è un risultato, dicevo, sicuramente che richiede impegno, che ha richiesto impegno, che ha richiesto entusiasmo e quindi è un risultato comunque lusinchiero, un risultato ottimale che fa di Castellabate un territorio veramente all'avanguardia sotto tutti i punti di vista e soprattutto dal punto di vista ambientale. Seguo io in prima persona questa parte importante di questa amministrazione che è appunto l'ambiente e la cura dell'ambiente, secondo il mio modesto parere, è fondamentale per la crescita turistica, per la crescita culturale, per la crescita a 360 gradi del nostro territorio. Nella raccolta dei rifiuti voi trovate delle criticità, questo ve lo chiedo in modo tale da stimolare ancora di più magari il cittadino a fare meglio nella raccolta di un determinato rifiuto, c'è una criticità in merito? Diciamo che la criticità è sicuramente quella e quindi dobbiamo andare a vincere sulla qualità del rifiuto. Io parlo in un senso generale, diciamo che Castellabate è una qualità di rifiuto sicuramente importante, non a caso laddove andiamo poi a parlare di conferimento presso gli impianti finali, devo dire la verità, per il comune di Castellabate, tra l'altro è una cosa che curo io in maniera diretta, quella dei conferimenti presso gli impianti, vi posso dire con certezza che questo è uno di quei comuni dove la qualità dei rifiuti è sicuramente eccelsa. Un centro di raccolta che è funzionante, funzionale, veramente secondo me, come detto il signore, uno tra i migliori, lo posso dire con estrema franchezza che abbiamo sul territorio locale e quindi con degli operatori sono molto attenti, è un qualche cosa che si può anche tranquillamente affrontare singolarmente con il cittadino nel momento in cui ha un determinato problema.